yo logo shadow of the gu berries trovati la vostra andrea nichot 1 su yokai watch 2 siamo su polpa anime in questo video vi farò vedere come prendere le due tessere mancanti per sfidare uno yokai segreto che si chiama malavo Malavo non è un boss yokai è appunto come ho detto uno yokai segreto che non si può sfidare tramite metodi convenzionali bisogna cercarlo tramite missioni o meglio le missioni servono solo per la prima scheda ovvero la scheda oro per vedere come prendere la scheda oro c'è lo scorso video nel quale affronto malbimini lì vi faccio vedere come prendere la scheda per la scheda rossa invece bisognerà cercare 10 bambini per tutte le fogne di val d'oro questo metodo richiede un po quindi nel video sarà abbastanza velocizzato per farvi vedere appunto dove sono dislocati tutti quanti i bambini a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo punto torniamo nelle fogne, inseriamo tutte e tre le tessere necessarie, così potremo entrare nella sezione più nascosta delle fogne, quella di Malavo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La lotta contro Malavo è stata abbastanza interessante perché non avendo gli yokai chissà a quale livello, è stato più bello poter affrontare uno yokai più forte dei miei, o di pari livello. Quindi insomma la lotta è stata abbastanza interessante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ad ogni modo Pugge, questo era il video su come prendere le due tessere mancanti per affrontare Malavo. Come sempre spero vi sia piaciuto, in descrizione trovate i link per Twitter, se ancora non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye. Grazie a tutti. Grazie a tutti.